Gli ultimi eventi di cronaca nel Brindisino hanno riacceso riflettori sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. La verifica del rispetto degli obblighi da parte dei datori non è solo una formalità burocratica ma una necessità impellente per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Gli infortuni non sono solo numeri in un rapporto annuale, rappresentano vite umane, famiglie e comunità che vengono scosse da queste tragedie. È fondamentale quindi non solo adempiere agli obblighi di legge ma anche promuovere una cultura della prevenzione e della consapevolezza dei rischi. La prevenzione inizia con la formazione. Ogni lavoratore dovrebbe avere accesso a informazioni chiare e dettagliate sui potenziali pericoli presenti nel proprio ambiente di lavoro. I datori devono assicurarsi che tutti i dipendenti siano adeguatamente formati e che le misure di sicurezza siano non solo comprese ma anche attivamente praticate. La sicurezza è una responsabilità collettiva. Si tratta di un impegno condiviso che coinvolge anche le istituzioni, le associazioni di categoria e i sindacati. Solo attraverso un approccio sinergico e cooperativo è possibile costruire ambienti di lavoro sicuri e proteggere la vita dei lavoratori. Gli infortuni sul lavoro possono essere ridotti significativamente con l'impegno di tutti. È essenziale che un incidente venga analizzato approfonditamente per comprendere le cause e prevenire la ripetizione di simili eventi. La sicurezza sul lavoro non è un optional ma un diritto e un dovere che deve essere perseguito senza sosta. Sensibilizzare, formare, agire sono i pilastri su cui costruire un futuro più sicuro per tutti.